E' quello che la fondazione ha fatto. Per tutte le iniziative mi piace molto perché è un po' particolare, perché soprattutto prevede un'attività svolta da una persona che mi sembra molto bene operante, la professoressa Ferrero. Devo dire che dare dei quadrini è tutto sommato abbastanza facile e darle le persone giuste per uno scopo preciso è molto più complicato. Quindi quando si trova un'iniziativa di questo genere si è felice di poterlo fare. Quindi grazie a chi ci consente di fare una cosa di questo genere e qui mi servono la parola a Carla Cornero se veramente i tuoi minuti accoltanti.